La Fratelli Raimondi a inizio anno ci ha comunicato la chiusura totale dell'azienda con la messa in liquidazione della società e quindi il licenziamento di tutti i lavoratori. Questa è una decisione dell'azienda presa per noi inaccettabile anche perché da anni gestiamo la vertenza della Fratelli Raimondi con grande senso di responsabilità da parte dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali. Questi lavoratori vantano dei crediti da parte dell'azienda molto importanti per la quale vogliamo avere chiarezza su come i lavoratori dovranno percepire queste somme e chiediamo chiarezza alla prefettura e al prefetto sulla questione della messa in liquidazione dell'azienda anche perché per noi da parte nostra ci sono dei punti molto oscuri. L'azienda sembra che da un lato voglia andare in liquidazione ma dall'altro continua a lavorare come se nulla fosse accaduto. Quindi per questo chiediamo l'intervento della prefettura e speriamo che il prefetto possa intervenire in merito e garantire la continuità lavorativa per i lavoratori.